E' bella a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi siamo su un nuovo video e siamo su una flash news clamorosa, raga Raga, come ben sapete, il Milan sta passando un periodo, no, visto che Giampaolo non sta imponendo il proprio gioco E' una cosa clamorosa, raga Rino Gattuso, vabbè, Gennaro Gattuso potrebbe ritornare al Milan A investire le vesti di allenatore del Milan Wow, raga, una flash news davvero clamorosa, raga Raga, allora, intanto vi scuso se sono mancato in questi giorni, però sto lavorando, quindi mi dispiace, raga Mi dispiace, ma mancano, mancheranno alcuni video, però il fine settimana arriveranno video Quindi farò due, vale, al massimo tre video a settimana Sicuramente arriveranno al fine settimana Raga, però, mamma mia, clamoroso, Rino Gattuso potrebbe ritornare al Milan nelle vesti di allenatore Quindi, wow, raga, wow, spoliciate e iscrivetevi al canale per non perdervi altri video del genere E altre delle campanelline Wow, raga, wow Allora, raga, Giampaolo è molto 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 a rischio, visto gli ultimi deludenti risultati E ha 90 minuti per stupire ancora Maldini ed Eliott E Boban, una cosa del genere, comunque Quindi, raga, è molto molto a rischio Marco Giampaolo Mi dispiace perché io difavo Marco Giampaolo perché ha fatto vedere delle gran belle cose con la Santa Doria Però non sta dimostrando lo stesso con il Milan Avrebbe bisogno di un po' di più di tempo Ma il Milan non ha tutto questo tempo, quindi, raga Marco Giampaolo è destinato ad andare via Mi dispiace per lui Mi dispiace per il Milan Perché sta vivendo questo momento Che sta vivendo questo momento bruttissimo E che dire, raga, se questa Flash News Bomba vi è piaciuta lasciate un bel like Fatemi sapere qui sotto nei commenti della vostra Se iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Seguitevi su Instagram, mi è un robito, il settimana, il battino, basta, l'officio Ci vediamo nel prossimo video Bella, ragazzi